Fondamentale la qualità a partire da quello che è la gestione del vigneto per arrivare a tutto quello che è la gestione, le vinificazioni in cantina e le attenzioni che si devono avere in una vinificazione di un prodotto come il vino che comunque rispecchia poi la tradizione di un territorio e quello che il consumatore vuole comunque consumare e bere. Trovare i nostri vini si trovano presso il nostro punto vendita situato in Castelnuovo Calcea e che è aperto 7 giorni su 7.